Ciao a tutti oggi siamo in macchina oggi siamo in macchina si lo so ho detto ciao a tutti e non avevo nessuna intenzione di dire ciao tesorine perchè oggi ho cambiato oggi è ciao a tutti mare? si? cosa stiamo facendo? andiamo a mangiare abbiamo una fama allucinante abbiamo deciso di fare una cosa che abbiamo visto ormai ovunque e quindi o che figo la videocamera mi dice se sono dritto o meno non sono dritto ovvero di com'è che si chiama? ma non ha un nome in realtà noi vogliamo andare il senso nome esatto noi vogliamo andare da Burger King l'ho visto sempre un sacco da altri youtuber stiamo andando da Burger King io sono al cameraman il cameraman non parla comunque l'unico cameraman muto esatto comunque l'ho sempre visto da altri youtuber se voglio farlo anch'io anche se mi vergogno tantissimo deve guidare lei e parlare lei andiamo da Burger King e chiediamo dopo il primo che va al McDrive chiediamo di avere le stesse cose che ha ordinato quello prima di noi ciò vuol dire che potremmo anche pranzare con un gelato non abbiamo idea di quello che quello davanti prenda e potrebbero volerci ore prima che qualcuno vada al Burger King Drive magari alle 9 di stasera qualcuno qualche anima pia perché Burger King Drive è subito accanto all'ingresso e quindi tanta gioia dopo 20 minuti se non passa nessuno amore andiamo da un'altra parte oppure saremo noi primi a dire dacci l'ultima cosa che ti sarà da ordinata vedremo vedremo comunque a tra poco ciao beali si stava lamentando perché sto riprendendo lei è bastato inquadrarla che è no sto pensando alla strada che dovevo girare prima l'amo ormai faccio l'altra strada allora come ti senti? la strada della strada della strada come ti senti a guidare? ah io sempre bene facciamo passare questa splendida signora si questa signora che sta passando è una signora fantastica veramente? si si la conosci? si si abita vicino da noi e sarà da queste parti perché forse sarà venuta a trovare il figlio boh non lo so ma quelli sono dettagli eeeh però è davvero una persona squisita 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 non scherzassi no no ma adesso metto una stories su instagram e vi chiedo si seee se volete che mangiamo anche insieme a voi ma si lo facciamo e basta? allora noi stiamo preparando questo vlog quindi nel vlog ci sarà il mukbang dove mangeremo con voi va bene mukbang si grande amore e il video dove facciamo vedere quello che viene dai che dici? dividiamo i due video o ne teniamolo solo? non lo so adesso chiediamo dai facciamo poi una storia con un sondaggino un unico vlog? o un vlog e un... un mukbang? no ah no e un... vi portiamo con noi a ordinare boh boh che ne dici? non lo so potremmo farne due separati dai è quello che io sto dicendo però magari il loro poi da fastidio no vi da fastidio? ahahah guarda un elicottero un fenicottero? no un elicottero eeeh si col cavolo che si vede amore vabbè c'era un elicottero che volava vi siete persa le brezze di un elicottero che che volava nel cielo blu cucurucurucurucur ok siamo arrivati a Burger King uh c'è un tizio c'è una macchina andiamo andiamo quindi ci... oddio che vergogna non ce la faccio ragazze vai vai non ce la faccio che vergogna saremo per prendere tanta roba questa è roba buona teneva cos'è oddio che vergogna troppo adesso prende tutto a base di di pesce che schifo di cipolla manco pesce oddio amore che vergogna dai stai diventando arancione stai diventando arancione che cosa? tu che scemo prego mi dica pure la sua ordinazione salve mi da lo stesso ordine che ha fatto la macchina davanti a noi per favore un chicken bacon? si davvero? è uguale uguale a loro un tè al limone e un crispy in più? si grazie basta così? si sono 10.75 vieni pure a mancare l'ultima finestra grazie mangeremo niente all'ultima ha detto all'ultima un po' dammi il portafoglio ma porca miseria adesso gli vado a parlare a questo davanti dico ascolta ma potevi ordinare qualcosina in più? che è il limone buono 10.75 grazie si ciao ciao vabbè non qualche video? no tu no dai si no anche tu vabbè saluta allora ciao a tutti mi auguro sia un video ricordo si dai è su youtube anzi vuoi venire a seguire Robertina Robertina e vedrai questa giornata così va bene ragazzi andate pure via grazie la mia faccia della paragnosta paga sempre che forte era ti papà amore stai tornando il tuo colorito se è poco entriamo e prendiamo altro c'ho fame non possiamo dobbiamo aspettare ma c'ho fame dobbiamo aspettare fino a stasera io ho fame tu a me lo dici 10 euro che ancora un po' non ho fatto neanche colazione vado a parlare a quella davanti sta che finisce la batteria vado a parlare con quella davanti dico guai a te la prossima volta almeno 20 cose devi arrinare eh eh mi sono vergognata tantissimo e come è andata? te la vuoi? no però mi sono vergognata tantissimo la tizia è stata zitta un attimo prima arriva 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 vi facciamo vedere anche la consegna arriva la consegna non è sempre l'aria no è la mochina dopo no questa è sfiga però ci passa e siamo in attesa ma infatti prima di noi avevano consegnato tre ordini uno dietro l'altro quindi c'era stato il sto malendo di fame e siamo stati anche un po' sfigati nella richiesta così si sfortunatamente questo giro ci è andata male mi sa che devi rifare amore e quindi grazie grazie ciao ciao chicken tender crisp tender crisp tender crisp io vado di patate io vado di panini andata io ci sto no già dobbiamo smeggiarci sto cosino quanto ci è andata male a questo giro? no non è vero non è vero non cade no non cade siamo noi che siamo più grossoni ne ho andata a mano da amore per l'altra metterà ma questa è roba per infatti era una persona sola davanti a noi già sono poche già sono poche di più che era una persona a dieta quindi una dieta quindi per sentirsi meno in colpa ho preso il te al limone il te al limone è cucarato esattamente quanto una coca cola penso ah sto schiattando del asset è inutile cambiare cannuccio pure senza ghiaccio e beh altrimenti è un acquato oh buongiorno cosa cambia con un pane nell'altro? chicken tender crisp o crispy chicken quale vuoi? è uguale fanno tutti e due il formaggio no scegli tu ho preso prima io pronto metta e poi ce lo scambiamo si? ma si ma saranno uguali mi ammazza proprio quello che piace a te esatto boh mmm che buono tanta roba io penso sia il pollo normale mmm il pollo che te non piace mmm che te non piace che te non piace neanche niente no sì che mmm buono oddio ma che è piccante è un sentore piccante è un sentore diverso mi sa che in questo c'è l'uovo nooo ma va guarda il bianco la sopra nooo il maionese mmm 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 speriamo che abbia ragione speriamo che abbia ragione lei speriamo che abbia ragione lei mmm facciamo un cambio no dai ma sei piccante ma è troppo forte quello madonna è troppo beconioso mmm troppo simpatico finisco in qualche video no portatele finita mmm e se tra virgolette scusata per l'attesa mmm so che aveva il pollo in cottura e qualcuno continuava a dirmi se ne sono scordati se ne sono scordati se ne sono scordati per amore oh ciao il mio menetto il mio il mio oh oh adesso diamo la pappa anche a lei sì perché perché con noi oggi c'è anche la gnometta mica la facciamo in giro no? ciao davvero tante roba sto panino non so se lo sai ma ancora fa no no arrivo topina dobbiamo resistere fino a stasera no ti tocca no guarda che non c'è non c'è non c'è ne giù eh ah boh fantastico ti vieni ti stai leggendo la suona cosa? eh ma dai ma c'è ancora un po' bevi un cucino ho bevuto ho bevuto ho bevuto ma dai ma non lo voglio ma dai è sempre così anche a casa ma lo voglio dai aiuto aiuto fammi contento guarda che il signor si è girato non lo voglio dai mmm mmm quando meno te lo aspetti mi ficcherai la cannuccia beh rispetto al nostro classico c'è semplicemente una porza di patatino in meno e una bibita in meno non c'è niente voi non avete fame? comunque se ve lo state chiedendo questo non è un nuovo tatuaggio eh è un tattoo adesivo alla fine ho ottenuto quello che voleva c'è assurdo assurdo vabbè ora andiamo a prendere il resto il dolce, il gelato, altri due panini e un porsino di patatine andiamo a fare la spesa ci tocca anche quello a bubu cosa c'è qui? a bubu a bubu a bubu a bubu a bubu a bubu che dolce allora noi siamo tornati a casa da una decina di minuti e abbiamo fatto il video spesa lo troverete dopo il vlog vero amore? si mi c'è una zecca mi ne ho zecca da una ce la posso fare e Roberta sta cambiando la piccolina perché Maria no dire che ha fatto un po' di cacca è poco è riduttivo è poco e niente io vado a fine di sistemare il frigorifero e lasciamo lei a divertirsi con la cacca ciao ciao grazie a bubu ti fa ridere sta mammone a bubu a bubu a bubu vedete è per questo che mi ritengo fortunato guarda che poi arrossiamo è vero che arrossiamo poi noi e eh cosa dice papà? ah vuoi mangiare anche noi siamo fortunate che abbiamo un papà super e un amore super come farei senza di voi? e noi senza di te super papà ehi tu dove ti butti? super papà oggi questa monella si divertiva a farmi gli scherzetti ah si? questa si che mentre ce l'avevo in braccio si lanciava wow mi divertiva a vedere come la mamma se lo prendevo allora Ricky ha messo della musica e quella dopo è venuta sta canzone che non posso filmare più di tanto però era quella che cantava quando ci lasciava me a lei in ospedale che dice appunto stasera sono solo senza di te e ci va e la cantava papi questa quando ero in ospedale oh non ti ricordi Grazie a tutti